Sì, Mary, esatto. Vado a combinare qualcosa. Per una sensazione di freschezza così, nuovo deodorante Neutro Roberts, extra fresco. La nuova soap opera di Canale 5. Vi terrà compagnia dal lunedì al venerdì alle 14.40. Tempesta d'amore. Da domani alle 14.40 su Canale 5. Tu farai l'estruzione. Tic Tac Summer, la ricarica delle vitamine naturali. Nuovo Magnum Essence, gelato alla vaniglia con un cuore croccante di puro cioccolato. Sei curioso di provarlo? Yes, I am. Magnum Essence, dalgida. Cos'è ancora meglio della biancheria di seta? La pelle di seta, per una pelle più bella, più morbida e splendente come seta. Prova la nuova linea DAV Silk Glow, creme corpo, bagni e diodoranti. Basta Vodafone in casa. Il tuo cellulare diventa il tuo unico telefono. E poi ti vedi tutti i conti mondiali. Fammi vedere io. Pensavo anche in Germania. Vodafone. Life is now. Dalla Grecia, Total Fage, l'autentico yogurt greco che nasce dal cuore del latte. Il numero uno in Grecia. Così straordinariamente denso e cremoso. Total Fage, il bianco naturale della Grecia. Per me i capi sono come una seconda pelle. Ecco perché ho scelto Biopresto Sensitive, che unisce all'efficacia di sempre la delicatezza sulla pelle. Infatti non irrita. Non ci credete? Vi faccio vedere io, eh? Visto? Probabilmente il miglior detersivo per la vostra pelle. Da oggi, Biopresto Lavatrice diventa Biopresto Sensitive. Qualità Enkel. Ti piacerebbe provare una sensazione di freschezza così? Io ho scelto Extra Fresco, il nuovo deodorante Neutro Roberts. Ho scelto 100% freschezza per tutto il giorno e zero macchie sui vestiti. Nuovo deodorante Neutro Roberts. Extra Fresco. Neutro Roberts. La mia scelta. Pronto? Scusi, ma per Fiumicino faccio l'appio o la pontina? Ancora. Signori, faccia un po' come le pare. Per fortuna sto Parla Parla di Infra un po' finisce. Lo so. Tanto ho fatto quella nuova. Questa va fino a fine agosto. Entra in team con Parla Parla Autoricarica. Chiami gratis tutti i team e i telefoni di casa. E quando ti chiamano ti ricarichi di nove centesimi al minuto. Oddio, che estate terribile che mi aspetta. Ma perché terribile, amore? Andiamo al mariette soli soli, eh? Aiutateli. Le città sono fatte per Micra. E fino al 30 giugno, Micra Junior è tua da 9.400 euro. Con clima incluso nel prezzo. E con l'operazione I Love Summer. Finanziamento in 60 mesi, anticipo zero e prima rata gennaio 2007. Sono John e sono uno chef. Cucino italiano a domicilio. Porto tutto io, a cominciare da un'ottima birra italiana. Il segreto è capire sempre il gusto di ogni cliente. Nastro azzurro, c'è più gusto a essere italiani. Cronotec orologi. Tutto a posto? Non pensi che dovremmo rinfrescarci un po' le idee? Kinder Pinguì. Latte e cioccolato per una ricarica freschissima. Ma che vi siete detti? Kinder Pinguì. Rinfresca le idee. 50 euro di sconto. Ma che sommati? Da Vodafone 50 euro in meno su tutti i cellulari UMTS. 800 sacchio. Vodafone. Life is now. Vicino a noi c'è un bellissimo esemplare maschio. Dovremmo addormentarlo per qualche minuto per osservarlo più da vicino. Tipico dei finlandesi, denti sanissimi. Da anni in Finlandia si consumano chulingamo lo xylitolo come vividen xylit. L'oxylitolo è un ingrediente naturale che aiuta a prevenire la carie. Vividen xylit. Denti più sali. Oggi l'efficacia antizzanzare del fiore di Piretro la trovi qui. Nelle nuove piastrine Bygon Protector. Le uniche con insetticida di origine naturale. E oggi 10 sono gratis. Dalla linea Bygon Protector. Presidio Medico Chirurgico. Leggere le avvertenze. Quest'urlo è di Otto. Che ci fa un ragazzo nudo in salotto? La sorella perfetta. Posso spiegartelo? No, non posso. Che bella! Questa coscia è di Faith. L'ultima cosa che hai cucinato era il tuo personal trainer. La sorella imbarazzante. Che bella telecamera! Sono c'è in diretta! Hope and Faith. Proprio come nei film. Da domani alle 17.45 in Prima TV Canale 5. Ups. Sorry.